Buongiorno, quando io parlo con un italiano vero mi chiedono sempre Ma dove hai imparato l'italiano così bene? E io dico da Luisa, la vostra insegnante di italiano Per imparare o migliorare il vostro italiano è molto semplice Chiedete una prima lezione di prova gratuita su internet Andate al sito il-tedesco.it Buongiorno cari amici e amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 19 parte B Vi ricordate l'ultima volta delle cose che vi ho raccontato sul calcio italiano? Ecco, proseguiamo il racconto con tanti vocaboli e tanti aneddoti E un piccolo dialogo tra me e il signor Armando Il signor Armando è un grande tifoso della Sampdoria Buon divertimento e buon ascolto Zona e zona Cesarini Ecco, questo è un modo di dire È un gol fatto negli ultimissimi minuti di gioco Perché c'era un giocatore chiamato Cesarini Che ha veramente fatto questo Ha segnato negli ultimi secondi di una partita E quindi un gol in zona Cesarini Vuol dire un gol dell'ultimo attimo E questo però si può anche usare per altre cose Non soltanto per il linguaggio calcistico In zona Cesarini vuol dire quando succede qualcosa proprio nell'ultimo attimo Fallo Il fallo è una violazione delle regole da parte di un calciatore durante il gioco Si dice commettere fallo, foul C'è un fallo intenzionale Quando la violazione delle regole da parte del calciatore durante il gioco è fatta in modo volontario Vuole proprio fare il fallo Absichtlich Fallo intenzionale Fallo di mano È chiamato così quando un giocatore tocca la palla con la mano In modo intenzionale Lo fa apposta Absichtlich Fallo di mano Fallo laterale È chiamato così quando la palla esce dalle linee laterali del campo A causa di un giocatore E deve essere rimessa dalla squadra avversaria Gegner E poi c'è il cartellino Ecco il cartellino si usa per i falli più gravi C'è un cartellino giallo E un cartellino rosso Il cartellino viene mostrato al giocatore in caso di fallo grave È un'ammunizione in caso di giallo Invece quando è rosso Espulsione Vuol dire che il giocatore deve uscire dal campo Non può più giocare Ecco espulsione è una punizione per un giocatore Per un comportamento antisportivo Vediamo adesso quali azioni possono fare i giocatori durante una partita Calcio ad effetto Che cos'è un calcio ad effetto? È un tiro in cui la palla ha una traiettoria curva Traiettoria di Bahn Un tiro curvo Non dritto Nicht gerade Ma curvo Calcio d'angolo Calcio d'angolo è il tiro che viene fatto dalla bandierina d'angolo Ecco Per riprendere il gioco dopo che un giocatore per difendere ha mandato la palla oltre il fondo del campo Calcio di punizione è un calcio piazzato che viene fatto da un giocatore Quando la squadra avversaria commette un fallo Fa un fallo Calcio di rigore abbiamo visto È un calcio piazzato che viene dato in seguito ad un fallo nell'area di rigore Il pallone viene messo sul dischetto del rigore a 11 metri dalla porta Poi c'è contropiede Contropiede è l'azione di attacco da parte della squadra che in quel momento Si stava difendendo Cucchiaio Cucchiaio è un tiro lento Centrale Realizzato colpendo il pallone nella sua parte inferiore Sono cose abbastanza tecniche Io non è che me ne intendo molto di calcio Vi leggo più che altro queste cose Doppietta Sono due gol Due gol segnati da un calciatore in una partita Ha fatto una doppietta Ha fatto due gol Dribbling Oppure dribblare C'è anche il verbo È il superamento dell'avversario Mantenendo il controllo del pallone Quindi dribblare vuol dire superare l'avversario Senza perdere la palla Una finta invece è un'azione di un giocatore Che finge di tirare o di andare in una direzione Per ingannare l'altro calciatore Fa finta Fa finta di andare in una direzione Poi invece va in un'altra Per ingannare l'avversario Fuori gioco È una regola Che afferma che un attaccante Prima di ricevere la palla Deve avere almeno due difensori Della squadra avversaria Tra sé e la porta Quindi se questa regola non è rispettata Si ha un fuorigioco Marcare Oppure il marcatore Ecco il marcatore è il giocatore Che controlla un avversario O che ha segnato un gol Marcatura infatti È un altro modo per dire gol Per dire rete Melina Ecco una piccola mela No non è una piccola mela Ma è una tattica di gioco Ecco fare melina vuol dire Perdere tempo Facendo tanti passaggi Durante la partita Ostruzione È chiamato così Quando si impedisce ad un giocatore Di avvicinarsi al pallone Con il proprio corpo Ostruisce Ostruzione Palleggio C'è anche il verbo palleggiare È un controllo del pallone Ed è un esercizio Passare la palla Da una gamba all'altra Pallonetto È un tiro Non molto forte Ma preciso Con cui il pallone viene mandato Molto in alto Per scendere in un punto specifico Pallonetto Che cosa vuol dire papera? Papera vuol dire un errore stupido Da parte di un giocatore Durante una partita Una papera È un errore Parare un tiro Parare un gol Vuol dire fare in modo Che la palla Non entri nella porta È il compito di chi sta in porta L'unico giocatore Che può toccare La palla con le mani Parare un gol Parata È l'azione Che fa chi sta in porta È chiamato così Quando si ferma la palla Prima che entri in porta Pareggio Oppure come il verbo Pareggiare È chiamato così Quando le due squadre In un gioco Hanno lo stesso risultato Poi cosa dobbiamo ancora? Passare la palla E dare la palla A qualcuno Durante il gioco Pressing Probabilmente Lo conoscete tutti Perché viene dall'inglese È anche qui Una tattica di gioco Che consiste Nel fare pressione Sui calciatori Che hanno la palla Pressing Rimessa dal fondo È un calcio Di ripresa Dopo che la palla È uscita Dal fondo del campo Senza essere stata toccata Dai difensori Che cosa vuol dire Invece rovesciata? È il tiro Che viene fatto Dal giocatore Saltando all'indietro E mandando la palla Dietro di sé Rovesciata Scivolata Invece È un'azione Che consiste Nello scivolare Sul campo Per togliere la palla All'avversario Simulazione È chiamato così Quando Si fa finta Di aver ricevuto Un fallo Ma tut Nuo so Als ob Der gegner Ein faul Gemacht hat Smarcare È il contrario Di marcare Smarcare È quando In attacco Ci si libera Degli avversari Stop Oppure Stoppare Fermare il pallone Con il piede O con il petto Tunnel È chiamato così Quando si fa passare La palla Tra le gambe Dell'avversario Bene Poi Cosa abbiamo ancora Moviola Moviola È Zeitlupe Ecco Queste sono Diciamo Le parole Più usate Ne possiamo Aggiungere ancora Qualcuno Ammonizione C'è anche il verbo Ammonire È una punizione Del calciatore Per un comportamento Scorretto In campo Il giocatore Si mostra Un cartellino giallo Uno rosso Secondo La gravità Di questa Scorrettezza Alla seconda Ammonizione Quindi l'arbitro Può far vedere Due volte Il cartellino giallo Al giocatore No La seconda volta È già cartellino rosso E al secondo cartellino Col cartellino rosso Il giocatore Deve uscire Viene espulso Viene fatto uscire Dal campo Assist Noi Attenzione Perché non è Tante volte Dicono Gli italiani Parlano male Inglese Noi Italianizziamo Anche molto Le parole Inglesi Tipo Whatsapp In italiano Si dice Whatsapp Perché diventa Quasi una parola Italiana E l'assist È anche una Di queste È un passaggio Rapido Da un giocatore Ad un altro Che fa gol O quasi Poi c'è Una barriera Ecco La barriera È un gruppo Di giocatori Che viene messo In difesa Tra il punto In cui si tira Un calcio Di punizione E la propria Porta Quando tutti i giocatori Si mettono In fila Davanti alla porta Per proteggere La porta E poi c'è Una parola Abbastanza Buffa Biscotto Ecco Biscotto Noi lo conosciamo Come Cakes Qualcosa da mangiare Nel linguaggio Calcistico Vuol dire Un accordo Tra due squadre Per avere Un particolare Risultato Senza giocare Veramente Si mettono D'accordo Sul risultato Ed è una partita Quasi truccata Ecco Una truffa Catenaccio E anche qui Una tattica Che prevede Una forte difesa E un debole Attacco Quando i giocatori Non vanno Tanto all'attacco Ma difendono La loro Parte Di campo Moviola Come vi ho già detto È uno strumento Utilizzato Per visualizzare Le azioni Di gioco Ma lentamente Side loop Ecco Queste Erano Alcune Parole Viene in mente Ancora Sostituzione Sostituzione Abbiamo detto Pareggio Della mia squadra Con i nostri Armando e Luisa Forza Doria Forza Sartoria Ogni partita Sartori 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 Dai Questo è un fallo Da cartellino No